Dopo un'ora di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a far arretrare il camion rimasto incastrato in via Valder a biumo inferiore. Il mezzo pesante è stato sollevato con l'autogru dai pompieri e i muri degli edifici sono rimasti lievemente danneggiati dalla manovra. L'ennesimo caso è avvenuto nella stretta via di biumo.